A spiegare nel dettaglio l'ordinanza anti-movida è l'assessore al commercio Antonio Filipponi che parla anche di controlli e sanzioni da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine. Sì, a seguito dell'ultimo weekend dei controlli che ci sono stati di Polizia Urbana ma anche delle altre Forze dell'Ordine abbiamo ritenuto necessario andare a vietare tutte quelle attività di pubblico spettacolo, di piccolo intrattenimento musicale all'esterno. È stata una misura necessaria perché in diversi locali della città ci sono state queste attività musicali che in qualche modo oltre a coinvolgere le persone sedute correttamente ai tavoli coinvolgevano anche persone all'esterno dei locali che quindi sostavano in piedi in prossimità degli stessi. Quindi tutte le attività musicali, tutti i trattenimenti musicali anche di piccolo spettacolo e tutte le altre forme artistiche si potranno, fino chiaramente alla durata di questo DPCM, si potranno svolgere solo all'interno e non all'esterno. E sui controlli delle Forze dell'Ordine fuori dai locali? Alcuni sono stati verbalizzati ma non ancora sanzionati in attesa che vengano presentati alcuni documenti che mancavano in quel momento. Assessore, quindi stoppa la musica ma nulla per le somministrazioni e per gli orari? Esattamente no, i locali devono assolutamente continuare a svolgere il proprio lavoro nella massima sicurezza, avere attività musicali all'esterno effettivamente ci ha creato dei problemi in questo weekend perché più che piccoli trattenimenti musicali erano serate di musica vera e propria che andrebbero autorizzate con il pubblico spettacolo. Chiaramente noi in questo momento non vogliamo autorizzare nessuno con il pubblico spettacolo perché non è il momento di fare questo tipo di autorizzazioni. All'interno è possibile ancora svolgere il piccolo trattenimento musicale e questo non incide assolutamente sugli assembramenti esterni. Grazie a tutti.